Come è stata la quinta edizione del Festival Michel con un'opera internazionale? Abbiamo inaugurato la quinta edizione del Festival Michel con questa artista di arte contemporanea, Colin Miller, che ci ha donato le sue ali, le ali della città degli angeli, che sono state portate appunto da Los Angeles qui a Monte Sant'Angelo. E' una bella esperienza non solo d'arte, ma anche come messaggio da lanciare all'esterno. Il Festival Michel quest'anno ha come immagine il San Michele di Kiev, quindi un messaggio molto forte che abbiamo voluto lanciare, un messaggio di pace che abbiamo voluto lanciare, in cui appunto la bellezza e la cultura sono strumenti molto più forti delle armi. Grazie a tutti.